Buongiorno a tutti, bentrovati, eccoci qui vicini al Natale, io avevo detto finiamola, cerchiamo di rimanere uniti e compatti, ma l'Inter è sotto attacco, ma continuano a fare video su video, i pifferai magici, cosmici, e continuano ad attaccare, cosa dobbiamo fare? rispondiamo con un bel 23 di dicembre, quale sarebbe il bersaglio grosso che avete centrato se non il palo contro cui vi siete autodistrutti, quale sarebbe il bersaglio grosso, fatemelo capire, il 19 novembre forse, ma vediamo, vediamo, siamo al 23 dicembre e non ci sono pifferai che girano vicino a Milano, poi la cosa che più mi ha fatto ridere è che mi ha il noto panariello, mi ha attaccato perché faccio i video dalla cucina, che sono confinato nella mia cucina, forse non vede gli altri video dallo stadio, i video che abbiamo fatto quando l'Inter si allena, quando siamo andati a Madrid in Moldavia, faremo una live anche da bordo campo, promesso, promesso, bando alle ciance, un Inter che gira la boa del girone d'andata a quota 46, 5 in più di Conte, 7 vittorie consecutive, 6 partite consecutive senza prendere gol, record di minuti di imbattibilità di Samir Andanovic, una prova di sostanza anche se ieri forse non è stata l'Inter più bella di Simone il Bello che non può che essere soddisfatto per un lavoro immenso fatto per questo titolo che non vale niente ma che dà tanta tanta fiducia e sicurezza come conferma il tecaldo più famoso di YouTube, mi fa abbastanza ridere anche oltre ai pifferai, anche Juric che dice mi aspettavo un Inter più forte quando non ha fatto un tiro in porta, giusto una parata di Andanovic su una punizione che sarebbe finita fuori, no dai mettiamoci anche quel destro a giro di piazza dal limite che è finito fuori di poco ma era importante non perdere punti per strada nella ultima partita prenatalizza che spesso è una trappola per tanti con la testa gialla e vacanza, un po' di relax, abbiamo parlato poi, intervistato così giusto per chiarire qualche cosa, forse vi mandiamo un abbonamento a Italia 1 visto che eravamo anche sotto la sede ieri, prima allo stadio, poi a intervistare i protagonisti delle partite, vabbè cosa ci tocca sentire, tutti un po' ai giocatori che ho salutato per gli auguri di Natale, quasi dispiaceva andare un po' in vacanza anche se hanno veramente tirato la carretta fino adesso e una settimana per staccare ci sta, però chiaramente in un momento così in cui funziona tutta la perfezione andare in vacanza e staccare questa macchina praticamente perfetta potrebbe essere pericoloso, speriamo che così non sia, adesso però aspetta l'Inter un Bologna che ha trittato il Sassuolo e non sarà facile all'Epifania, un'altra partita spesso trappola e ce lo ricordiamo anche l'anno scorso a Genova, vediamo, 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 intanto penso nessuno si aspettasse un Inter così, un primato così importante, così consolidato con addirittura una giornata che ha permesso di guadagnare punti sia sull'Atalanta sia su Napoli che sembrava ritrovato ma si è perso per strada, autorete dello sfortunato Juan Jesus che dopo la prestazione perfetta contro il Milan ha ingannato il suo portiere per questa sconfitta contro lo Spezia in casa che fa piombare il Napoli a meno 7, resiste il Milan a meno 4, sarà una lunga, una lunga diciamo volata per il girone di ritorno, l'importante è tener botta a gennaio-febbraio, mesi più complicati, posso dirvi però un'altra cosa che non ha assolutamente senso, che senso ha giocare il 12 di gennaio alla Supercoppa italiana in mezzo a due partite di campionato a San Siro, che data cosa mi rappresenta su un campo di patate che abbiamo visto in condizioni pessime che sarà ancora peggio alla ripresa del campionato con una serie di partite una dopo l'altra tra Inter e Milan, io non capisco veramente che senso abbia nel gelo rischio infortuni di sera, che senso ha giocare la Supercoppa il 12 di gennaio, che senso ha, spiegatemelo, in mezzo poi a un calendario strafitto, un conto sarebbe stato giocarla in Qatar, in Arabia Saudita dove volete, prima di Natale al posto di questo turno di campionato che poi sarebbe stato recuperato avrebbe avuto un senso anche per il ricco cachet, ma giocarla il 12 di gennaio che senso ha in un congelatore, in un freezer e con tutti i problemi che sappiamo, con un numero di contagi che aumenta esponenzialmente, non so veramente, non capisco, non ne capisco il motivo, allora fallo come sempre stato a fine stagione, con bel tempo, con il caldo, con uno stadio tutto pieno si spera, incomprensibile, incomprensibile. Altro motivo in più per cui vi dico stiamo in trincea uniti e compatti perché è veramente importante e anche pericoloso questo momento, tra l'altro da quello che risulta adesso l'indagine sulle plusvalenze sta andando avanti soprattutto sugli scambi con il Genoa e le recompre che secondo la procura sono sospette quando erano una prassi consentita e poi adesso non più consentita, quindi che se la prendessero con i regolamenti di qualche anno fa che permettevano questo tipo di operazioni. Non so che cosa abbiano a dirne, comunque Marotta ha ribadito quello che abbiamo detto fin dal primo minuto quando vi abbiamo spiegato la situazione, quando vi abbiamo detto gran serenità, tranquilli, perché è ancora un'indagine preliminare, non c'è nessun indagato a differenza di altri e poi i movimenti sono talmente minimi e risibili. A proposito avete visto Francesco Forte, ieri ha segnato in Serie A e quindi un altro dei giocatori che è stato praticamente regalato e adesso ha un valore molto più importante come Zappa, come Zaniolo che è l'emblema di quanto sia aleatorio un discorso del genere. Andiamo avanti veloci, adesso un po' di vostri messaggi, mi fa piacere che tutti i nostri approfondimenti vi siano piaciuti e soprattutto che abbiate apprezzato il tentativo di spiegarvi al meglio, grazie anche, lo ringraziamo ancora al nostro amico Mauro per aver fatto chiarezza su tutta quella serie di cose che potevano far preoccupare. Andiamo al video, pagelle, che vi invito a cliccare così per farmi un minimo tornare un po' di caldo dopo il freddo bestiale di ieri sera, anzi preferirei rimanere sempre qui confinato, soprattutto adesso, guardate. Ciao, lo immaginavo all'inizio sarebbe stata dura con il Toro Roberto Scabbia, quest'anno squadra tosta come su allenatore Juric, questi punti sono oro. Lorenzo Rispoli, angolo della posta, il tempo è galantuomo, altra ottima partita di Dumfries, sta crescendo, segna un gol pesante che vale tre punti, manda un forte messaggio in zaghi ai tifosi, bella vittoria a Marcos offerta, è durissima come si supponeva, Juric è un allenatore ostico, sa prepararle benissimo le partite, Dumfries è Cernaglio, non mi stupisco o chissà perché. 8 file, questa contro Torino era il tipo di vittoria che mancava aver dimostrato di sapere portare a casa tre punti, anche così si può dare ulteriore convinzione a tutto l'ambiente. Il velo epico per un gol importantissimo, riposo per tutta l'Inter, più che ha meritato, buon Natale a tutti. Mi sono ricordato una cosa, in tanti, anche qui, ma soprattutto dai cialtroni e dalla compagnia del buco, criticavano Dzeko per la partita che ha fatto, per me uno dei migliori, l'assist per il gol è suo, una battaglia continua ha permesso di salire sempre dalla squadra, le palle alterano tutte sue, si è portato spesso a spasso la difesa, ha portato su pallone, ha fatto un lavoro bestiale, come si fa a dire che ha fatto una partita pessima, insufficiente, vuol dire non capire niente di calcio, ma avevamo già dei buoni indizi a questo proposito. Antonio Rauso, si è capito quanta differenza faccia avere in campo Barella, anche quando fai prestazioni senza giocate evidenti, alla sua sostanza è un fattore, tra l'altro Ammonito Ciananoglu era diffidato e salterà la prima del nuovo anno, però come vi ho detto anche ieri, a me Vidal è piaciuto molto molto. Pasquale Biscari, per essere sempre presente, grazie. Stasera si è vista un po' di Inter della stagione scorsa, il che mi fa molto piacere, perché anche se soffrendo un po' abbiamo portato a casa la vittoria, la porta in battuta, la capolista se ne va, Davide Buonocore, Giuseppe Martera qualche anno fa a partita del genere le avremmo buttate in malora, quest'anno invece c'è consapevolezza nei propri mezzi, autocoscienza, tanta tanta fame, oltre che tanta qualità. Sono 15 anni che seguo la bene amata, non l'ho mai vista così schiacciassassi, nemmeno nell'era del 17, vittoria consecutiva di Mancini. Mi vengono i brividi. Ciao Marco, vittoria sofferta, Frank Nerazzurro con Don Torino ben messi in campo, mai rinunciatario, secondo tempo un po' meno aggressivi, forse un tantino stanchi comunque sulle vittorie che alla fine contano, ora un meritato riposo. Aurora, partita complicata, abbiamo dimostrato di essere più forti in difesa, soprattutto oggi, avanti così, rilassiamoci, testa a gennaio. Marco Albano, l'Inter ci ha fatto un bel regalo di Natale con questa vittoria, ringraziando soprattutto Denzel Dumfries, finendo la stagione, primi in classifica, sempre forza Inter. Grande Marco per quello che fai per noi, questa è stata comunque una vittoria, adesso i punti, il Torino non molla niente a nessuno, a parte la Juventus, ancora una bella partita di Dumfries, il bistrattato e soprattutto tre gol nelle ultime quattro partite, non tre partite. Sassade Baron, oggi abbiamo visto che siamo una squadra che sta a soffrire anche non giocando come al solito, essere campione inverno, un titolo che mi tengo stretto, riposiamoci e poi ripartiamo a mille. Gianluca Leoni, grazie al video anche con la nebbia, grande Inter nonostante il gioco, poco scoppiettante, buone feste a tutti, Inzaghi ha dimostrato di saper giocare in vari modi, a seconda degli avversari, stasera partita è vittoria alla Conte, complimenti anche Juric, però vittoria pesante, Roberto Staffiere, fondamentale, vince anche quando non si gioca bene, ho solo un quesito, ma perché Vecino? Dai, non è più accettabile, entra svogliato, si fa odiare, mi sembra con la valigia in mano, anche avete visto come Perisic l'ha redarguito e rimproverato quando è entrato. Buonasera Marco, Andrea Battista, d'accordo con le tue valutazioni, Manft, vittoria sofferta, ancora più importante, Torino molto fisico e aggressivo sulle seconde palle, forse noi un po' stanchi, la scighiera, erano anni se non decenni che non si vedeva così intensa nella nostra Milano, che sarebbe il nebbium, vittoria importante, fondamentale, Beatrice, che bello ritrovarti, dobbiamo essere fiduciosi di questa squadra andare avanti sempre, Liviana, vittoria positiva, Moggio Sofferto, belle quote rosa del canale, angolo della posta, Cosimo Reale, che bella vittoria, non per il gioco, ma per la difficoltà. Nel raggiungerla, Kenebion, Massimo Vignali, l'astronave ancora più affascinante, così sfocata sullo sfondo, sono molto contento per Dumfries, la sua prima standing ovation a San Siro. Cristian Garacci, lo sapevamo, sarebbe stata dura, ma è lì che dimostri la tua vera forza. Poi, Luca Clerici, il Torino era in forma, le squadre di Juric, tatticamente e fisicamente, sono sempre ben impostate, giusta sottolineatura. Vediamo se c'è qualche altro abbonato. Luigi, partita difficile, tuttavia Simone del Bello ha portato a casa tre punti senza prendere gol. Assolutamente d'accordo, Luigi. E poi direi che ci siamo, come sempre. Seven Up, Luca Mambrini, 40.000 persone di pomeriggio a due giorni da Natale, incredibile, Antonota. E facciamo sottolineare anche questo dato. Veloce rassegna stampa, adesso andiamo direttamente alla Gazzetta dello Sport senza perdere tempo, prima pagina dedicata all'Inter. Tombola, con il 46 che esce sulla ruota di Milano come i punti conquistati da questa squadra che doveva arrivare a giocarsi la salvezza, e invece è prima con un vantaggio anche importante, nonostante tanti punti persi per strada. Dumfries castiga, un bel toro in zaghi commando e non si ferma più in estate, nessuno se lo immaginava e si toglie qualche sassolino. Inter Natale da padrona in zaghi non si ferma più, basta un lampo di Dumfries per castigare un bel toro. Settima vittoria consecutiva di fila, ha confermato il P4 sul Milan, a lungo sul Napoli e anche sull'Atalanta, ma per Iuri c'è una prova che dà fiducia. Leggiamo Assis di Dzeko, che avrebbe dovuto far rimpiangere Lukaku, gol di Dumfries, che avrebbe dovuto far rimpiangere Hakimi, l'Inter batte 1-0 il Torino, il popolo nerazzurro canta, la capolista se ne va dopo i 12 gol nelle ultime tre partite. Vittoria di Cortomuso, che non significa passo indietro, anzi racconta la forza della squadra di Inzaghi, meglio di certe goleade. Un ottimo Torino, subito aggressivo, ha impedito il solito palleggio elegante, l'Inter ha trovato il modo per venirne fuori comunque e dopo il vantaggio ha tirato giù la Saracinesca, senza rischiare nulla. Una vittoria chirurgica di una squadra che sa vincere, dando spettacolo ma anche soffrendo. I numeri di metà torneo spiegano bene a che ritmo sta volando. 46 punti, uno in più dell'Inter del triplete, solo Mancini ha fatto meglio in due stagioni, ha segnato 49 gol come solo l'Atalanta 2019-2020 negli ultimi 60 anni. Per la prima volta nella sua storia ha vinto 6 partite di fila senza subire gol. Pazzeschi, numeri pazzeschi. Un po' le pagelle della Rosia, 7 a Inzaghi, 7 a Bassoni, 6 e mezzo a Skriniar e De Vrij, 6 a Dandanovic, 7 a Dunfries, 6 e mezzo a Vidal, 7 a Brozovic, il peggiore è Vecino, entra col fioretto e non con la spada, non capendo quale tipo di partita si stia giocando, e infatti, dopo il secondo pallone perso, lo rinporo avrà pure Persic, lui se la prende, c'è la Nogos, 6 e mezzo, Persic 7, Lautaro 6, 6 e mezzo Dzeko, 6 e mezzo Sanchez, 6 sensi, più o meno gli stessi voti che abbiamo dato noi. Inzaghi e in estasi, il re d'inverno, nessuno in estate vedeva un Inter così, il tecnico è una cavalcata da Scudetto, ora ci chiamano Corazzata, ma prima, in nerazzurro solo Mancini, tra il 2006 e il 2008, aveva fatto più dei 46 punti di Simone quest'anno, ottimismo, il messaggio per il resto della stagione, la strada è lunga, ma ci aspetta un grande viaggio. Inchiesta sulle plusvalenze, SPM indagano sui riacquisti, inizia l'analisi di documenti e mail prelevati dalla finanza nella sede del club Marotta, sempre agito con estrema correttezza. Queste le parole, Juric, orgoglio Granata, coraggio, tanta personalità, Toro, così mi piaci. Andiamo al Corriere dello Sport, belli rapidi, copertina dedicata all'Inter, che però si è chiusa, la copertina, sperando che non ci dobbia rifare, loggare come spesso accade, Inter a manetta, ci pensa Dunfries, in Zaghi vola, in estate non ci davano favoriti, non ha vittoria nelle ultime dieci gare, un'altra chiave di lettura, è sempre la solida Inter, il titolo, il terzo cento stagionale di Dunfries, potete allungare sul Napoli-Atalanta, sesta gara senza reti incassate, la prima volta nella storia del club, la porta di Andanovic, ormai imbattuta da 551 minuti, i nerazzurri non brillano e fanno fatica col Torino, per la prima volta arriva la vittoria, con un solo gol, sette bello Inter, i nerazzurri chiudono l'anno, col settimo successo consecutivo, si sono a 46 punti in classifica, se il Milan ha risposto a Empoli, li allungano sia su Napoli sia su Atalanta, e allora volendo, la vera novità è che contro il Torino, la banda Inzaghe abbia faticato, e non sia stata brillante, come nelle ultime uscite, non a casa ha segnato soltanto un gol, è stata sovente imprecisa, la ripresa ha costruito, un'unica vera opportunità per raddoppiare, che Sanchez ha calciato sul palo esterno, davanti a Milinkovic-Savic, ma sarebbe stata una punizione eccessiva per i Granata, che hanno tenuto il campo, con coraggio nel primo tempo, per poi prendere il controllo dell'operazione, la ripresa non molto soddisfacente, voti un po' bassi, Inzaghe che dice, non scordo i giudizi dati a luglio, oggi è troppo comodo parlare di un Inter favorita, Bastoni, concluso un mese perfetto, 6,5 in Zaghi, 6 per Andanovic-Scrinia, 6,5 De Vraglie e Bastoni, 7 Dunfris, Vidal 6, Sensi senza voto come D'Ambrosio, Brozovic, Cialanoglu 6, Vessino 5,5, Perisic 6,5, Di Marco senza voto, Dzeko 6,5, Martinez 6, Sanchez 6, come vedete Dzeko sempre 6,5, solo chi non capisce di calcio, poi plus Valencia, Inter serena, noi corretti PM al lavoro, per analizzare le carte, la di Marotta replica commisso, su certi temi si discute in Lega, e non sui giornali, e direi anche, chiudiamo con tutto sport, un minimo pit stop, appuntamento se riusciamo in live stasera, vi ricordo a tutti di iscrivervi al gruppo Telegram, Marco Barzaghe Inter, mi raccomando, fuga Inter, Macchettoro, Dumfries regala in Zaghi, la settima vittoria di fila, per i Granata, ennesimo K.O. a testa alta, Juric vorrei alzare la qualità, spero mi ascoltino, Sumit con Cairo, Inter da record, Dumfries castiga in Zaghi, fa 7 bello, Cairo aiuta Juric, settima vittoria di fila, la capolista che però soffre, sino alla fine, ai Granata, servono rinforzi in attacco, con le big, sempre K.O. di misura, i numeri di Juric, 104 punti e gol, noi una corazzata, a luglio, altri giudizi, Dumfries, Fatriz, gara dura, ma primato di Andanovic, il portiere porta la sua imbattibilità, a 551 minuti, avvicina Bordon, vediamo le pagelle di Tutto Sport, per chiudere, Andanovic 6,5, come screen, Arrede, Evrai, 7 bastoni, Dumfries, 6,5, Vidale, Brozovic, Cialanoglu, Vessino 5, steccato da Tutto Sport, Perisic 6, Dzeko 6,5, Martinez 5,5, Alenatore in Zaghi 7, settima vittoria consecutiva, 4 punti in più di Conte, e sono 5, non 4, è un Inter che pare sempre di più, una macchina mangia avversari, merita solo, applausi, quelli che meritate anche voi, che siete sempre qui, a sostenere il canale, a supportarlo, appuntamento Sport Medias, ore 13, e poi in live stasera, come sempre, se ci saranno novità di avviso, salutatemi i pifferi!